Giungla, quella che si chiama Giungla, vedete che stanno scappando le persone, ma se non era per alcuni volontari che venivano ad avvisarli, nessuno in città, nessuna delle autorità veniva ad avvisare che c'era il rischio del... Ciao, 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 stanno scappando, come vedete, il sumo sta rischiando di esondare, però nessuno era venuto ad avvisarli, siamo venuti con un gruppo di volontari per cercare di farglielo sapere. La città deve reagire a tutto ciò, non è pensabile che questo vada avanti, bisogna per assurdo ringraziare l'isonzo che oggi ha detto con chiarezza che siamo un popolo incivile. Assolutamente oltre i limiti, questi sono gli ultimi sette di un centinaio di persone che vivono lungo il fiume da mesi, da mesi, è una cosnizione incredibile.